Va bene, è sabato, ma sapete che quando c'è da molestare l'Inps io sono sempre in prima linea e non mi faccio, insomma, questi grandissimi problemi. Il nostro insider, che ringrazio ovviamente, ci ha risposto, quindi vediamo cosa ho scoperto su bonus 2400 euro circolare, domanda e proroga. Un accenno anche alle domande di RDC di febbraio bloccate e poi le due nuove rate di REM straconfermate e pagamenti in arrivo per gli sportivi. Insomma, ce n'è un po' anche questa sera, io sono Mr. Lul, sigla, mi raccomando, un bel like per sostenere il video e il canale e iscrizione con la campanella per non perdere i prossimi aggiornamenti. Partiamo! E insomma, anche questa settimana è evidentemente andata buca per chi attende di poter fare domanda per il nuovo bonus Luna Tantum da 2400 euro. Niente circolare e niente procedura online e la scadenza del 30 aprile è sempre più vicina. Come vedete, l'insider ci dice che l'obiettivo dell'istituto è, entro la prossima settimana, sistemare e rendere disponibile il tutto e che inoltre è al vaglio in valutazione anche una proroga dei termini per la presentazione delle domande. E ci credo, aggiungo io. Tra l'altro è un po' un mistero come siano riusciti a pubblicare prima la circolare del REM, ben più complicata e corposa, rispetto a questa qui dei bonus 2400 euro che, appunto, non ha particolari complicazioni o punti oscuri. O almeno non in apparenza. Poi ho segnalato anche la situazione delle mancate lavorazioni di tante tante pratiche RDC sospese per il mancato aggiornamento dell'ISEE da febbraio, ma anche tante nuove domande o anche rinnovi sempre di febbraio che sono ancora inchiodati in acquisizione e non vengono lavorati. Purtroppo, di nuovo, come potete vedere dalla mail, l'insider questa volta non ci dà particolari indicazioni, sta indagando e non sono note problematiche specifiche e particolari. Quello che vi consiglio io è di prendere un appuntamento, almeno telefonico, con la vostra sede IMSS di riferimento e cercare di capire cosa sta succedendo e ovviamente sollecitare lo sblocco. Veniamo però anche alle buone notizie. Dopo la conferma inaspettata, direi, di Draghi ieri durante la conferenza stampa, anche dalle commissioni lavoro arrivano ulteriori conferme su una probabile doppia rata di REM prevista dal nuovo decreto sostegni BIS. E inoltre, tanti me l'avete chiesto in questi giorni, sono finalmente anche in arrivo i pagamenti dei bonus per i lavoratori sportivi, come da comunicato stampa, di Sport e Salute. Non finisce qui perché, come vedete, stanno arrivando anche caterve di arretrati, parecchio anche corposi come importi, per il bonus bebè. Detto questo, io spero che il video sia stato utile, interessante, mi raccomando, fatemelo sapere con un bel like, iscrivetevi con la campanella per non perdere, lo sapete, no? Nessuno dei prossimi aggiornamenti, noi ci vediamo alla prossima, buonissima serata, buonissimo weekend da Mr. Lul.